Slovenia Misha e Mika insieme a Clemen e Barbara entrambi campioni sloveni della professional divisione di Eccitanza Misha e Mika insieme a Clemen e Barbara sono i campioni sloveni professionali e danze sono i campioni sloveni perché la danza è un spazio bello spazio senza limiti ladies and gentlemen Misha e Mika 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti